E' il segno di un'estate che vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire mai. E' il segno di un segno di notizieri. E' il segno di un segno di notizieri. E' il segno di un segno di notizieri. rinchiesta? Abbiamo il nostro esperto in relazioni cosmiche. Avanti l'apsodico! E salve a tutti, ciao notizieri, versione estate, versione summer. Allora io volevo porre una domanda al qui nostro presente. Allora, notizieri summer, salve. Allora la domanda è questa. Io sono chiaramente colui che è responsabile delle relazioni cosmiche col comune di Polina. L'ho detto? Certo, certo. L'ho detto. Era per persuadere. Secondo lei preferirebbe andare al lino di classe con Gion Travolta e Massimo Ranieri o trovarsi a Las Vegas con Gigi e Andrea? Con Gigi e Andrea, qui è Gion D'Amato. Avrei scelto. avrei scelto. Quindi molto meglio che con i primi? Perfetto. Io scrivo di classico. Ma io con di classico è un giudizio. E io troppo sabbia. Troppa sabbia? Meglio Las Vegas con Gigi e Andrea. Perché dopo hai un giudizio di Gigi e Andrea. Oh, credo. Grazie a tutti. Vorrei potesse non dire, vorrei potesse non dire mai